Allora siamo di nuovo a Trento, siamo di nuovo a Trento per due giornate di lavoro. Io sono appena arrivato però sentiamo Marina che è qui da ieri e ci dice cosa è successo. Tenta la macchina. Sì scusate nel frattempo. Dunque ieri workshop e co-design dei servizi, servizi digitali insieme a Designers Italia, una parte del team per la trasformazione digitale. I ragazzi hanno accompagnato se vogliamo alcuni dei dipendenti pubblici che fanno parte del Consorzio dei Comuni Trentini in questa nuova avventura, disegnare insieme i servizi al cittadino. E oggi? Restituzione. Oggi faremo una prima parte di che cosa è successo ieri, infatti stay tuned e capiremo quali sono le opportunità, i prossimi passi, come fare per ottimizzare le risorse, creare dei servizi che siano davvero interoperabili, gestibili in un linguaggio semplice. Andiamo! Walter, oggi siamo qui al Consorzio per lavorare più che parlare, per confrontarci. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che, anche con un certo orgoglio, ti devo dire che quello che tu ci hai raccontato e tra virgolette ci hai insegnato in questo anno di attività insieme, ieri ha avuto una concretizzazione pazzesca, nel senso che il tuo motto occorre investire sulle risorse umane, più che sulle tecnologie, anche sulle tecnologie ma senza risorse umane che non si fa da nessuna parte, ieri l'abbiamo provato sul campo. Più di 80 dipendenti comunali, divisi in gruppi, insieme al team per la trasformazione digitale, ci hanno aiutato a definire quali sono le priorità che un cittadino ha quando si rapporta con la pubblica amministrazione nell'ambito del tema generale dei servizi al cittadino. Quindi oggi per noi è una giornata molto importante perché quello che abbiamo fatto insieme ha trovato una dimostrazione concreta sul campo. Quindi avete restituito ai diversi colleghi dei comuni del consorzio strumenti sul come fare? Esattamente, sul come fare, quindi tanto per dirti è apparso chiaro che oggi se un fornitore ti porta della tecnologia per affrontare l'erogazione di un servizio online, questa cosa non può più essere affrontata semplicemente dall'informatico del comune. L'informatico del comune rimane indispensabile, però chi lavora sul campo deve metterci le mani, deve metterci la testa, deve dirti come quel servizio deve funzionare anche dal punto di vista tecnologico. Va bene, buon lavoro allora. Grazie Gianni. Allora Lorenzo, siamo di nuovo qui a Trento ma questa volta per lavorare, per fare laboratorio. Che cosa è accaduto e cosa accadrà? Che cosa è accaduto ieri e cosa accadrà oggi? Sì, abbiamo iniziato a lavorare sul design e la progettazione dei servizi in modo concreto con il consorzio dei comuni trentini che significa con oltre 150 comuni in Trentino e per farlo abbiamo scelto un approccio collaborativo che permette alla fine di mettere al centro del percorso le persone che gestiscono e fanno funzionare i servizi ogni giorno. Questo è un po' lo spirito che ha animato questi due giorni di lavoro. Abbiamo fatto dei workshop con gruppi limitati di persone e ciascuno si è messo al lavoro in modo trasversale, cooperativo per produrre delle cose. Abbiamo fatto una mappa dei servizi, abbiamo lavorato su come si analizza un servizio e oggi faremo una serie di conclusioni, un altro workshop che servirà a incominciare a mettere ulteriormente a terra queste cose e a definire in modo collaborativo quella che è un po' la roadmap, il percorso che il comune del Trentino deve fare sul tema dei servizi per rafforzare ancora questo sforzo di miglioramento dei servizi lavorando sulle priorità. Va bene, andiamo a lavorare. Bene. Piacere di riconoscervi. Volevamo condividere le modalità di ricerca che abbiamo adottato nel corso dello scorso anno e mezzo, quindi diciamo da quando abbiamo iniziato a lavorare con i comuni sul progetto dei siti web, come esempio di attività che si possono organizzare in modo abbastanza rapido per raccogliere quello di cui ci parlava prima anche Lorenzo, quindi per raccogliere le esigenze delle persone e cercare di progettare il sito o l'applicazione a seconda dei casi in modo che rispondano effettivamente a queste necessità. Il nuovo modello, come sapete, si ispira all'idea di avere un approccio basato sulle esigenze del cittadino che noi su Designers Italia, il sito che racconta questo approccio, abbiamo visualizzato così. Quindi cittadino al centro e ci dobbiamo ricordare di fare riferimento alle sue esigenze e di rifletterle nel progetto in diversi momenti. Sappiamo che i percorsi non sono sempre lineari, quindi a volte abbiamo la possibilità di andare a fare ricerca prima di impostare un progetto di una sezione o un progetto di uno specifico servizio, altre volte l'abbiamo già costruito e recuperiamo informazioni in un secondo momento. L'importante è creare un dialogo continuo e tenerlo sempre presente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.